Noi abbiamo ascoltato le parole molto importanti, è una piccola riflessione di questa domenica. L'abbiamo ascoltato nel Vangelo, questo momento quando il Signore, il nostro Salvatore Gesù, è arrivato a casa di Marta e Maria. La loro casa si trovava circa tre chilometri da Gerusalemme, ma Gesù spesso veniva a questa casa perché lì era suo amico Lazzaro, quella casa di amicizia, perché lì era sempre posto. Hanno aspettato sempre lui. Allora noi oggi siamo qui a pregare, siamo qui a dire, Signore, vogliamo posto per te nella nostra casa. Loro sono arrivate sempre con grande gioia, sono arrivate davanti Gesù, accogliendolo. Ma Marta era sempre impegnata per il suo lavoro, ma aveva dentro qualche dubbio, chiedendo, Signore, vedi, mia sorella non mi sta aiutando, ma sempre ti sta ascoltando. Ma tante volte abbiamo le persone che dicono meglio sempre lavori, lavoro non ho tempo più perché devo prima fare tutto più importante che riguarda tutto intorno di me, la mia vita quella terrestre. A purtroppo Signore dice, strzelite quello che è più importante, strzelite me. Per me, perché io devo essere primo, per me devo avere tempo. Per me, oggi oggi in Ewangelia słyszymy właśnie o tym, come Maria i Marta przyjęli Jezusa. Pan Jezus przyszedł do ich domu, in cui è stato di loro, in cui è arrivato 3 km od Jerozolim. Lui l'ho tam przychodzi. Lui l'ho tamteno. Lui l'ho tamteno. Lui l'ho tamteno. Lui l'ho tamteno. Lui l'ho timaffare. Lui l'ho allah. Lui l'ho fatto che tre DIb particle e le. ma sempre ci sono solo nel corso domico, non sono sempre più in questo modo, ma sempre ricordiamo, che è importante di essere noi, che non è solo che ci sono stati nei nostri domi, ma sempre sono più iniziati, ma sempre sono sempre più iniziati, ma sempre che ci sono più iniziati, che sono sempre più iniziati, sono così molto spettati, ma che è stato molto spettato che ci sono sempre a ciò che ci sono sempre e ciò che ciò per noi 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 perché tutti tutti do Mnie przyjdziecie Amen Panie Boże Grazie 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 Grazie